23 aprile 1928 nasce a Santa Monica Shirley Temple. A tre anni Shirley comincia a prendere lezioni di ballo. Nel 1932, notata per il suo carattere estroverso, le viene proposto di girare un film. Raggiunge il successo nel 1934 a soli sei anni con il film La Mascotte dell'Aeroporto. I suoi passi di tip-tap e i suoi boccoli biondi catturano il pubblico e la rendono una vera e propria star, tanto da affiancare divi del calibro di Clark Gable, Gary Cooper e Robert Taylor. Nel 1950, Shirley Temple sposa l'uomo d'affari Charles Black e inizia una carriera politica che la porterà ad avere importanti incarichi diplomatici quale ambasciatrice degli Stati Uniti in diversi paesi. Muore il 10 febbraio 2014.